Aspettative ampiamente soddisfatte anche durante la seconda settimana di Ti Presento Campus, la tradizionale iniziativa di orientamento ospitata nel Centro Congressi Beniamino Andreatta dell'Università della Calabria, durante la quale le aspiranti matricorie dell'Ateneo sono aiutate a scegliere in modo consapevole il corso di laurea che meglio risponde alle proprie attitudini. Dall'8 al 10 agosto, infatti, sono stati numerosi e provenienti da ogni parte della regione i giovani che hanno affollato gli stand dei 14 dipartimenti e del Centro Residenziare dell'Unical chiedendo informazioni sull'offerta didattica e sui servizi offerti agli studenti. I loro commenti fugono ogni dubbio sull'impatto positivo avuto dalla conoscenza del campus. Un futuro studente, per esempio, della provincia di Reggio Calabria ha parlato di una realtà che trasmette energie e predispone bene ad affrontare lo studio, mentre due ragazze di Catanzaro hanno posto l'accento sugli elevati livelli organizzativi che rendono unica l'Università della Calabria, mentre altri due, entrambi della provincia di Crotone, si sono detti felici della scelta compiuta e pronti ad affrontare con impegno questa nuova avventura. Sono solo alcuni dei numerosi commenti raccolti a caldo durante la settimana, ma sufficienti a descrivere l'atmosfera gioiosa e l'entusiasmo delle aspiranti matricole colti quotidianamente nel Centro Congressi Beniamino Andreatta. Ti presento i campus e riaprirà nuovamente i battenti dal prossimo 22 al prossimo 25 agosto dalle 9 alle ore 13, giorni durante i quali sarà ancora possibile conoscere da vicino l'universo Unical e iscriversi all'Ateneo.